Come Comune di Padova abbiamo immediatamente appoggiato il progetto delle Olimpiadi e delle Pariolimpiadi a Venezia. È una proposta strepitosa che abbiamo fatto a tutto il mondo, a tutto di Venezia e delle città di Padova e di Treviso con il mondo dello sport. La nostra è una realtà che ha già le infrastrutture in grado di ospitare questo evento, sia sotto il profilo degli impianti sportivi veri e propri, che naturalmente dovranno essere ampliati e potenziati, sia sotto il profilo di tutte le infrastrutture della mobilità e della recettività, dell'ospitalità. Sono sicuro che un'occasione del genere il CONI per primo non può lasciarsela sfuggire e poi il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, la valuterà ritenendo che sia la più bella occasione che gli sia mai presentata.